Ciao ragazzi, finalmente è arrivata la, tra virgolette, nuova modalità, anzi hanno riaggiunto la modalità Doctor Curse Io non l'avevo mai giocata questa modalità perché purtroppo ai tempi, nel 2019, non avevo ancora una console o un PC dove giocarci Questo è un incubo dal quale non ti risveglierai Oddio, quanto è veloce Eh, volevi Oddio, sembra difficile, eh, però Olè No, raga sta qua, sta qua, sta qua No, eh, va a fa' un culo Quasi troppo semplice No, ho sbagliato adesso Eccolo lì, eccolo lì Per ora mi sto divertendo a un botto Vabbè, è carina Oddio, bella Allora, vediamo cosa ci potrebbe stare qua Eh, ovviamente quello che si figlia è la Figgiamoci Smoke Anzi no, figgiamoci Frost Comunque i cosmetici di Melusi fanno quasi cagare sotto Il male non riposa mai Ti hanno visto No, 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 no Vattene via, ti prego, vattene via Oddio, sei in andato Che culo Non mi posso sedere, no Eh, vabbè, dai Cammina E segue Te Qualcuno No Oddio Madre Succa cazzotto Sembrava più difficile Però Però è difficile Eh, il Jekyll qua È troppo forte Oddio No Cosa ho visto Come si è salvato questo Che scappa Impossibile Impossibile Una cosa Oddio Eh, è bella Però come Come si fa a giocare Quando trovi Contro Due Leon Addosso Viatelo Viatelo Affanculo Guarda che tutti Abbiamo le cuffie Abbiamo uno Fermo Poi Un round Da mostro Però Non mi interessa Lo devo vincere La cosa bella Di questa modalità È che subito Ti sceglie l'operatore Subito Parte il round Non so dove Nascondermi No Via Ti hanno Scoperto Via 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 Oddio Via Come M'ha preso Perché Perché L'hai fatto Ok Bella Round vinto Io smucco Vado con loro due Vado con loro due Su mortale Può resistere Al mare Oddio Via 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 Mi sa che pure Questa è una Easy win 10 5 4 GG Vabbè dai Ve ne registro un'altra E poi Basta Eh Aruni È un pochino Forte Mi dicono La morte No Via 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 Tu qui non mi beccherai mai Perché l'ho fatto? Non mi aveva visto Qualcuno È sulle tue tracce Via Che male Non t'aveva visto Ah invece si t'aveva visto Che figura di me Potrebbe essere il tuo Ora proviamo a Jekyll com'è Non ti credo Come mi è passato Sono qui Olé Qualcuno È sulle tue tracce Via via Run away No Amori tu Ti stanno seguendo Ah no 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 Ma l'ho intrappolato qua dentro Dai Eh guarda questo Allora vi dirò Un pochino ci si può divertire In questa modalità Secondo me Perché lo dico Perché ci stanno persone Come sto God Che secondo me Non vi ci divertire Troppo I cancelli sono aperti Il mondo È spacciato Poi Sono pareri miei Ora proveremo Lion Leon Ha fatto fuori No Da dove Scusami Non ci credo No Non ci credo Ne manca uno Dove andare dalla finestra Comunque Aruni E Uppi E mo E Niente ragazzi Spero che il video Vi sia piaciuto Non lasciate mi piace Dai Ci vediamo Al prossimo video Dove Farò Un altro Un'altra specie di vlog Un altro fuck Credo Vabbè dai Ora vedremo Bella Ah Ti hanno Visto Oddio Ce l'ho fatta Sembra Una cosa Un pochino brutta 15 secondi Rimangono 10 secondi Ti prego Ce lo puoi fare Ce lo puoi fare Restano Restano 5 secondi Ce lo puoi fare Ah ok Era lui Vediamo Mo sarà Tedesco E' tedesco Questo Questo è tedesco Allora Se fanno Allora Se fanno Di nuovo Lo stesso glitch Me ne vado Cioè Non possiamo più giocare Sta modalità Ecco Ancora Ancora No vabbè Quanto fai cagare Frate Cioè Non si può colpire Mamma mia Cioè Ti diverti così Tu Ti diverti così Maffanculo Allora